a me ha dato molto io non la conoscevo per me è stato un motivo di speranza di di essere più tranquilla nel vivere nel quotidiano la mia malattia di avere una serenità di essere appoggiata quotidianamente da loro perché sono sempre stati presenti fin dal primo e mi hanno aiutato nel mio cammino di avvicinamento alla malattia mi è stato di grande supporto da dire è una organizzazione importante l'associazione importante è vicino alle famiglie è vicino ai malati e vicino soprattutto alle persone che sono unite al malato stesso quindi la LIR ha dato quel supporto quella forza necessaria per affrontare la quotidianità del problema e quindi nella LIR ho sentito amicizia assistenza e soprattutto una grande parola la speranza per continuare a ricevere supporto costante perché è importante perché ci aiutano e ci sostengono la ricerca e per i nostri figli affinché si possa trovare presto una cura per tutti